ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video un nuovo video true crimes la storia di oggi di cui vorrei parlarvi è la storia di questa ragazza una ragazza coreana la quale è venuta a mancare all'età di 18 anni era una semplice ragazza delle superiori che di via poco si sarebbe diplomata i suoi genitori la descrivono come una ragazza vivace e solare tuttavia quello che le successe vi lascerà a dir poco rabbrividire le circostanze in cui questa ragazza è venuta a mancare sono del tutto singolari infatti qualcosa cambiò per sempre la sua vita è stata ritrovata infatti dentro un cantiere nascosta sotto dei giornali non erano state mostrate nessune lesioni sul suo corpo e non era stata nemmeno derubata salvo un segno sul collo la ragazza sembrava semplicemente che stesse dormendo quando è stata ritrovata tuttavia le erano state amputate entrambe le mani nei pressi di questo cantiere trovarono anche un'ascia la quale è stata presumibilmente utilizzata per recidere le mani dal momento che il sangue ritrovato sull'ascia e quello della giovane corrispondevano dal momento che non c'era molto sangue nei pressi del cantiere è presumibile pensare che questi arti le siano stati amputati dopo che il suo cuore abbia smesso di pulsare e questa è davvero una cosa strana perché perché una persona dovrebbe recidere gli arti di un'altra quando questa è passata già a miglior vita sarà stato qualcuno che la odiava per qualche motivo o forse si tratta di un fetish di qualche tipo non lo so in ogni caso vorrei fare un passo indietro ed analizzare quello che le era successo prima di quel fatidico giorno la ragazza si recò a scuola come qualsiasi altro giorno e dopo andò al lavoro lei infatti lavorava in un negozio di accessori questo negozio si trovava presso il cantiere e alle 8 e 20 stava ancora lavorando tuttavia questa sarà una delle ultime volte che questa donna sarà avvistata viva perché infatti alle 8 e 35 arrivò una telefonata al negozio di accessori nessuno rispose quindi tra le 8 e 20 e le 8 e 35 qualcosa deve essere successo altrimenti la ragazza dal momento che stava lavorando in quel negozio avrebbe risposto sfortunatamente né nel negozio né vicino al negozio c'erano delle telecamere di sorveglianza il giorno successivo è stato ritrovato nei pressi del fiume un paio di mani ragazzi so che la cosa è abbastanza scioccante però praticamente questo uomo stava andando nel fiume a prendere dell'acqua per il suo motore dell'auto e ha visto queste due cose nei pressi della riva che ipotizzava fossero delle mani di due manichini perché erano completamente bianche quasi sembrava da come la descritte tuttavia poi dopo dell'indagine della polizia si è scoperto che quelle mani appartenevano proprio alla giovane per quanto riguarda il cantiere nessuno lavorava lì di notte tuttavia la polizia decise di interrogare i lavoratori perché probabilmente conoscevano l'area molto bene e quindi magari avevano un più facile accesso il primo indizio che fu trovato dalla polizia fu una penna promozionale per un marchio di automobili ed è stata associata al signor che tra l'altro era colui che ritrovò anche il corpo della ragazza la polizia fu particolarmente sospettosa del fatto che proprio lui avesse trovato la ragazza proprio lui che quel giorno era arrivato tardi al lavoro la ragazza era stata nascosta in un punto molto particolare di questo cantiere quindi è davvero una coincidenza che proprio questo uomo a cui era stata ricondotta questa penna che era stata ritrovata vicino al cadavere sia stato anche l'uomo che ha ritrovato la ragazza la polizia sospettò subito che l'uomo sapesse che si trovasse proprio lì e quindi chiese di vedere le mani le sue mani mostravano chiaramente dei tagli dalla forma si poteva ipotizzare che questi tagli erano stati provocati da unghie come se una mano l'avesse afferrato magari poteva essere proprio la ragazza che era venuta a mancare che aveva cercato di difendersi e per questo aveva questi tagli sulle mani senza contare che lì tra l'altro indossava un paio di scarpe la cui suola lasciava una traccia che era molto simile a quella che è stata ritrovata sul collo della ragazza infatti vi avevo detto all'inizio che era stata trovata come se fosse stata colpita al collo e sembrava che queste due suole corrispondessero tuttavia fu rilasciato dal momento che non c'erano sufficienti prove per incarcerarlo molti esperti si interrogarono sul perché le mani erano state abbandonate se vogliamo dire così proprio nei pressi del fiume probabilmente l'aggressore avrebbe preferito nasconderle invece perché ha voluto metterle in un posto in cui sarebbero state facilmente ritrovabili alcune persone ipotizzano che l'uomo si sia voluto sbarazzare di queste mani al più presto possibile perché magari era paranoico o nervoso quando sono delle indagini molto spesso una delle prime cose che i poliziotti o comunque gli investigatori guardano è le unghie perché se cerchi di difenderti molto probabilmente potrebbe essere che ci siano delle tracce di dna della persona che ti ha aggredito quindi molti casi sono stati risolti proprio analizzando le unghie è possibile ipotizzare che la persona che ha attaccato questa ragazza magari lo sapeva dal momento che le unghie nelle mani che sono state ritrovate erano tagliate estremamente corte quindi magari lui prima ha cercato di tagliare le unghie poi aveva ancora paura che queste potevano essere riconducibili all'uomo e quindi ha scelto proprio di amputarle le mani e nasconderle da qualche altra parte la polizia aveva una lista di 57 persone possibili interrogabili per questo caso tuttavia non sono state ritrovate sufficienti prove per incriminare nessuno di loro gli anni sono passati e la gente ha iniziato a dimenticarsi di questo caso la polizia ha smesso di indagare ma di recente è stato fatto un documentario proprio su questo caso e si è fatto avanti un testimone secondo voi questa ragazza avrà la chiave per risolvere questo mistero che va avanti da quasi 20 anni? la donna che si è fatta avanti come testimone ha detto che nella notte in cui è stata aggredita lei all'epoca aveva 10 anni e stava aspettando sua madre nei pressi della macchina cioè si stava avvicinando alla macchina per aspettare sua madre come era solita fare tutti i giorni tuttavia mentre si stava avvicinando all'auto un uomo la fermò e le chiese dove fosse il bagno lei non rispose subito questo uomo era piuttosto diciamo in sovrappeso a detta sua aveva uno zaino e in più era vestito anche con vestiti molto leggeri diciamo considerando che insomma a marzo faceva ancora freddo in Corea tuttavia quando lei non rispose l'uomo la ferrò e iniziò a gridare le grida furono udite da un negoziante che lavorava di vicino che intervenne e aiutò questa ragazza la ragazza andò in auto e iniziò a giocare dei videogiochi sul cellulare mentre aspettava il ritorno della madre mentre era in macchina vide nuovamente l'uomo entrare in un altro negozio sembrava da fuori che stesse parlando con la commessa la commessa di questo negozio era proprio la ragazza che era venuta a mancare poi questo era quel negozio di accessori dove lei lavorava i due poi si allontanarono insieme e poco più tardi sentì delle grida a seguito vide di nuovo l'uomo tenere una borsa di nylon e andarsene via da solo è presumibile che in quella borsa ci fossero state le mani la ragazza è stata ipnotizzata per cercare di capire se ci fossero ancora delle memorie dentro la sua mente che potevano ricondurci a scoprire l'identità dell'assassino infatti sembra che l'ipnosi può essere utilizzata come un potente strumento per avere accesso a quella parte di memoria di cervello di tutte le cose che ci sono successe so che molti sono scettici su queste teorie però c'è chi ci crede quindi ve lo dico sembra che ci sia nel nostro cervello una specie di disco di memoria al quale tuttavia non possiamo avere accesso 24 su 24 quindi attraverso l'ipnosi c'è chi sostiene che sia in grado di accedere a questa memoria in ogni caso tornando alla testimone i produttori del documentario chiesero al testimone come mai non si fosse fatto avanti prima lei disse che quando era successo questo fatto aveva 10 anni appunto era molto giovane lei il giorno seguente la raccontò alla sua insegnante la quale non la prese troppo seriamente e allora se ne scordò ed è del tutto comprensibile perché voi pensate a immaginarvi quando avevate 10 anni se magari vedevate una cosa magari un po' strana magari a quell'età non avete ancora la percezione che magari questa persona potrebbe essere un serial killer capite? quindi è del tutto normale che abbia reagito così a quell'età i produttori del documentario andarono a vedere l'intera lista delle persone che la polizia avrebbe voluto interrogare e tra tutte queste 57 ce n'era una che non era mai stata interrogata e il motivo per cui non era mai stata interrogata era perché questo uomo aveva una specie di infezione agli occhi e quindi si era dovuto andare a operare lontano se ci sono 57 sospettati in lista io voglio che tutti questi 57 siano interrogati comunque si ha a che fare con sospetti c'è una persona che è venuta a mancare e sinceramente il lasciare in libertà una persona che magari era colpevole è davvero una cosa grave in ogni caso la rete televisiva riuscì a rintracciare dove si trovasse l'uomo non avvisò che l'avrebbero intervistato ma si presentarono direttamente da lui e iniziarono a fargli varie domande disse questa cosa che lasciò le persone alquanto sospette non posso immaginare perché una persona dovrebbe prendere una ragazza per violentarla come fai a sapere che sia stata presa per essere violentata? solitamente quando vengono prese ragazze così è per violentare ma la ragazza non è mai stata stupata? ah allora non so, lo hai fatto tu? no durante questo dialogo era palese come l'uomo fosse nervoso e preoccupato forse era solo nervoso perché pensava di essere considerato un possibile sospetto non è detto che questo necessariamente sia un segno delle sue colpe non è detto che lui sia il colpevole tuttavia molti lo hanno ipotizzato anche perché l'identikit che aveva descritto il testimone di un ragazzo in sovrappeso con lo zaino e vestito con vestiti leggeri corrispondeva esattamente alla descrizione che l'uomo aveva fatto di sé nel periodo in cui era successo questo fattaccio la cosa interessante era come l'uomo durante queste interviste sembrava ricordarsi tutto quello che aveva fatto in quei giorni salvo proprio la giornata dell'8 marzo il che è piuttosto strano perché se io vi chiedessi cosa avete fatto l'8 marzo 5 anni fa? non so se avreste una risposta pronta diciamo che questo ha sollevato qualche sospetto tuttavia la tv disse anche che ormai sarebbe troppo tardi per incarcerare qualcuno al che l'uomo rispose no dovete trovarlo ha fatto una cosa terribile e va punito ci furono poi una serie di nuovi indizi che emersero c'era un compagno di nome huang che era particolarmente innamorato di lei si dice almeno a detta di altri compagni le ha telefonato proprio il giorno in cui era successo questo fatto terribile e le ha chiesto per ben 29 volte se lei fosse innamorata di lui o se lei avesse un ragazzo a ripetizioni immaginatevi una telefonata in cui 29 volte vi chiedono sta cosa inoltre c'è un altro dei suoi compagni di nome Park che non andò a scuola il giorno in cui questa ragazza fu ritrovata e tra l'altro scrisse su vari forum informazioni su questa ragazza e sulle sue mani lui disse di non ricordarsi di aver scritto tali cose perché era passato molto tempo ma che ciò non c'entra assolutamente nulla col fatto che lui sia il colpevole o meno non lo so ragazzi questo è un caso veramente singolare è veramente difficile riuscire a risolvere questo caso non so chi potrebbe essere stato soprattutto la cosa strana è che non riesco a capire qual è la ragione per cui una persona dovrebbe fare una cosa del genere togliere la vita a qualcuno tagliarle le mani la cosa che più mi fa raccapricciare o comunque pensare è che non riesco davvero a trovare le ragioni sul perché una persona abbia voluto fare questo a questa ragazza spero che il video vi sia piaciuto e voglio davvero sapere la vostra opinione al riguardo scrivetemelo nei commenti ci vediamo al prossimo video ciao state attenti ciao ciao